Rifiuti eterno dramma del Lazio, incontriamo ancora una volta il professor Gavasci che su questa materia è un vero esperto. Professore, e cosa è cambiato dopo l'intervento del ministro Clini e soprattutto dopo che il TAR si è pronunciato? Beh, da un punto di vista di emergenza certamente è cambiato, nel senso che mi pare che la SAF di Colfelice stia accettando adesso la quantità di rifiuti, il trattamento dei rifiuti, ma questa è comunque un'emergenza perché poi è necessario portare a discarica rifiuti separati e selezionati, ma non è la soluzione, questa è una pezza di emergenza di cui giustamente il ministro si preoccupa. Il problema dei rifiuti non si risolverà nella nostra regione fino a quando non si deciderà di fare gli impianti, impianti di separazione, di generazione energetica, fino a quando non c'è un'impiantistica adatta, che peraltro è tutta progettata, è tutta, alcune addirittura già a AIA, altre sono parecchi mesi che sta in revisione di AIA alla regione, ma fino a quando non ci saranno costruiti questi impianti il problema dei rifiuti sarà sempre un problema di estrema emergenza. Per gli impianti però bisogna vincere soprattutto le resistenze dei cittadini, vediamo il caso di Albano dove si è creato un vero presidio permanente per dire no all'inceneritore. Ecco, lei che è un esperto, cosa può dire? Quanti danni potrebbe arrecare se soprattutto quell'inceneritore potrà effettivamente arrecare danni alla salute? Senta, qui è inutile eseguitare a dire queste cose perché ci sono, basta oramai, ci sono i giovani che sanno benissimo andare in internet, su Wikipedia, su tanti siti dove capire da soli quanti danni può dare. Non è più una giustificazione questa dei danni perché certamente, ma lo è sempre stato, nonostante con le nuove tecnologie, che oramai sono diventate vecchie, tecnologie, non ci sono più problemi di danni in quanto gli siamo veramente molto vicini allo zero, quindi specialmente una persona che vive a Roma e che vive a Corso Francia o che vive a Viale Marconi o che vive in queste zone molto frequentate, il 99,99% di quello che ispira è dovuto al traffico veicolare. Quindi i forni, quello che esce dal camino dei forni, oramai è praticamente vapor d'acqua, quindi non c'è nulla che possa assolutamente giustificare queste proteste e poi chiaramente sono proteste su cui si innescono gli interessi politici, la meteorologia, il populismo e quindi tutti quanti, ogni cittadino va lì perché ovviamente ha da difendere la propria proprietà, la riduzione del valore economico della sua casa o della sua, quindi sono tutti altri meccanismi, non sono meccanismi di inquinamento, anzi, certamente se avessimo degli impianti tutto ciò servirebbe a rendere estremamente più pulita l'aria che respiriamo, certamente più pulita le strade in cui viviamo che sono estremamente sporche, proprio perché ci sarebbe a base la possibilità di smaltirli questi rifiuti. Quanti maggiori danni, parlando di danni, può arrecare una discarica come Malagrotta rispetto ad esempio a un termovalorizzatore? Non si parla più di Malagrotta perché una discarica come Malagrotta non si farà più in Italia, lo spero, non si farà più nonostante sia gestita in maniera estremamente attenta, però una discarica come Malagrotta non si deve più fare perché l'Europa ha deciso giustamente di fare discariche di sostanze stabilizzate, di sostanze già pretrattate e quello che sta cercando di fare l'Italia per pretrattare questi rifiuti prima di mandarli in queste discariche. Ora, però, tanto più sulla sostanza combustibile si produce con queste sostanze energia e quindi scompaiono, tanto più ovviamente avremo materiale in meno da portare a discarica. Quindi impegneremo una quantità di terreno estremamente inferiore a quella attuale per portare in questi luoghi i residui dell'incenerimento, della combustione, della gassificazione. È chiaro che poi oramai ci sono tecnologie talmente avanzate che gli stessi scarti di incenerimento, di gassificazione, di combustione, sono utilizzati, riutilizzabili nella pratica quotidiana delle infrastrutture, per esempio come sono i fondi stradali, eccetera. Quindi l'ideale sarebbe veramente riuscire a eliminare a monte tutto quello che è possibile realmente riproporre sul mercato, il resto dovrebbe essere in pratica trasformato in energia, gli scarti riutilizzati e qui si arriverebbe a una piccola quantità, piccolissima quantità di scarti da portare a discarica oramai inertizzati. Quindi si può parlare del 10-15% delle migliaia di tonnellate al giorno che noi portiamo in discarica. Quindi quella è un'impianta industriale, un'impianta tecnologica. Noi stiamo confrontando l'era preistorica della discarica con, diciamo, per l'Italia futuro, che non è futuro, ma insomma, voglio dire, quantomeno era moderna. Ecco, si sta insediando la nuova giunta regionale, Nicola Zingaretti è il Presidente, quindi lei in tema di rifiuti, quale consiglio darebbe alla nuova giunta? Di finalmente realizzare il parco impiantistico che hanno sempre previsto tutti i piani regionali che ha fatto la Regione, perché ogni volta che c'è una nuova giunta si rifà il piano regionale e tutti prevedono un parco impiantistico già quindi programmato, individuato. Quindi si tratta semplicemente di rilasciare per quello che gli compete le autorizzazioni necessarie e di dare l'impulso alla realizzazione di questi impianti, in modo che fra 3-4 anni non si parlerà più di emergenza rifiuti, ma i rifiuti saranno una cosa assolutamente normale come tutti i servizi che l'amministrazione dà ai cittadini della nostra città.